Sono sul treno da Alambrate a Milano. Adesso passiamo davanti al centro centrale. Sono sulla cintura, passiamo davanti alla condizione FS e vediamo la centrale di testa con lo Skyline, bellissimo, bellissimo di Milano. Questa è la mia che è arrivata da Belizia, la terza entrata, questa, vedete, davanti a me, è proprio in varietà di patteggiati, la Skyline di Milano, bellissima, e il carrozzo istorico in foglio centrale. Invece di qua c'è una depositante sana, vi faccio vedere da questa parte, e da ventrano tutti triccia rossa, questo, i trasciti, i treni di notte, qui da vedere, il carrozzo in fondo, i treni di notte, buona, la serazione, sale a tutti.